Il report di ieri in casa Avelino ha fatto un po' sorridere gli amanti delle statistiche, soprattutto coloro che credono fermamente nella scaramanzia. Tutti a disposizione di Mr. Rastell, eccezione fatta per Richard Marcone, il portiere bianco-verde alle prese con una noia muscolare e da due giorni non si allena con il gruppo. A poco più di 48 ore da un match tanto delicato come quello contro il Catanzaro, viene facile pensare che tra i pali possa esserci un avvicendamento, con Pasquale Pane che potrebbe prendersi una maglia da titolare, statistica appunto o forse il fato. E sì, perché nelle due stagioni ad Avelino l'estremo difensore sembra avere avuto un conto in sospeso con i giallorossi. Al primo anno di Braglia scese in campo per un infortunio piuttosto lungo, occorso a Francesco Forte contro la Turris. Nella gara successiva al partenio Lombardi arrivava proprio il Catanzaro, 35 minuti e KO, facendo spazio a Riccardo Leoni, ma comunque presenza da titolare. A ritorno invece il 3 marzo del 2021 a Forte viene concesso un turno di riposo per un problemino alla schiena, combinazione proprio allo stadio Ceravolo di Catanzaro dove Pane si rende autore di una prova superlativa e Bernardotto regala i tre punti agli Irpini. Nella passata stagione invece nel girone di andata va in panchina, a ritorno però Braglia decide di dargli una chance. Dove? A Catanzaro ovviamente è qui che subentra la scaramanzia, a nostro avviso, del tecnico toscano. Il risultato stavolta non sorride ai lupi, prima un euro goal di Vasquez e poi Martinelli di testa interrompono una serie di 15 risultati utili consecutivi e bloccano la rinascita del Lavellino. Quel che contava però per portarci avanti nel discorso è che Pane fosse in porta. Ed ora, bianco-verdi rinnovati, tra mille tempeste e avvio difficile con il ritorno di Massimo Rastelli, la vittoria a Francaviglia e l'entusiasmo ritrovato. Con un big match alle porte proprio contro il Catanzaro, domenica pomeriggio Marcone non è al top e rischia di dare forfè. Al suo posto c'è proprio lui, uno dei leader dello spogliatoio e uno degli uomini prima e calciatori poi maggiormente apprezzati dalla piazza negli ultimi anni.